Dopo il no del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, anche la Giunta della Regione Puglia, su proposta dell'assessore all'ambiente Lorenzo Nicastro, ha bocciato il progetto della TAP. Troppo forte l'impatto ambientale che la Trans Adriatic Pipeline, il gasdotto che dovrebbe portare il gas dal Mar Caspio alla Puglia, avrebbe sul punto di approdo, la Marina di Melendugno in Salento. Ora la delibera della Giunta regionale sarà trasmessa al Ministero dell'Ambiente come prevede l'iter amministrativo per cui era stato richiesto il parere della Regione Puglia, la quale aveva già detto un primo no a settembre 2012. Il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, spiega Nicastro, in occasione del riavvio della procedura, richiedeva a tutti gli enti interessati dall'opera in questione il parere di merito. In seguito abbiamo chiesto al Ministro di attendere la chiusura del procedimento di via avviato, onde consentire di acquisire le risultanze del processo partecipativo, così come stabilito dalla delibera di Giunta regionale del 22 ottobre scorso, con cui la Regione Puglia intendeva garantire la massima trasparenza e partecipazione dei cittadini ai propri processi decisionali. Prosegue l'Assessore, favorendo al massimo possibile la partecipazione sul tema, e dunque acquisendo ai lavori del Comitato i verbali degli incontri pubblici coordinati dal collega Minervini, si è perfezionato il parere di venuto delibera di Giunta. Con questo ultimo passaggio formale, conclude Nicastro, trasmettiamo al Ministero le risultanze del nostro lavoro, affinché l'unica autorità procedente possa tenere in debita considerazione il parere frutto dell'ascolto dei territori, adottando i provvedimenti che riterrà opportuni. Ma il portavoce TAP, Giampaolo Russo, replica che il progetto ha tenuto conto delle caratteristiche ambientali, superando le critiche del Comitato via. TAP, ha detto Russo nei giorni scorsi, ritiene che non ci siano stati, purtroppo, lo spazio e la volontà politica di spiegare le caratteristiche del progetto, al fine, una volta superate le preoccupazioni, di specificare le potenzialità positive in termini di crescita economica del territorio interessato. TAP rivendica in ogni caso la qualità tecnico-progettuale delle sue analisi, elemento centrale anche della selezione che a giugno 2013 le ha consentito di superare il progetto concorrente Nabucco West.